E' arrivato a Nicolò, guarda E' quello numero quinto Il G205 c'è a linea Francesco Battaglia Della pilota in prima passione Mentre è arrivato anche a profolino al traguardo Della pilota in prima passione Il G205 c'è a linea Francesco Battaglia Tempo all'arrivo di Giuseppe Pronto per la sua performance Francesco Battaglia Siamo passati nella classe Siamo passati in prima passione E' il giro il G205 c'è a linea Francesco Battaglia Siamo passati in prima passione Siamo passati in prima passione Siamo passati in prima passione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.